Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video tutorial su CrayEngine 5 Oggi vi mostrerò come attivare l'illuminazione globale che migliorerà nettamente la qualità grafica del vostro progetto Per farciò andiamo su Tool, Level Editor e apriamo i settaggi del livello Scorrendo in fondo l'ultimo settaggio, l'illuminazione totale Vi farò vedere la differenza tra l'illuminazione di default e l'illuminazione totale Clicchiamo su Active Come potete vedere la qualità grafica è molto migliorata Abbiamo delle ombre più spente nella parte del terreno Dei colori più cupi E abbiamo invece dei colori più accesi e più luminosi nella parte alta degli alberi Potete poi andare a modificare i vari settaggi qua in questo pannello E potete anche modificare nell'environment Potete modificare le curve dell'HDR Che possono essere molto utili In quanto potete modificare la saturazione Il bilanciamento dei colori E altre curve HDR Nei prossimi tutorial vi introdurrò alle vasi delle sequenze cinematiche Inizieremo a muovere la camera per riprendere il paesaggio O comunque iniziare a creare una sequenza Se avete dubbi lasciatemi nei commenti E ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti